Palla Andrea Ion di Città di Castello, nell'ambito di un derby di B2 Spoleto, Gerardi Cartoedit, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Umbra, Giuseppe Lomurno. Grazie della presenza in Altavotevere. Grazie a voi dell'ospitalità, a me piace girare tutti i palazzetti dell'Umbria e vedere un po' come le tante società che si impegnano nei vari campionati, tenendo presente la grande attenzione che hanno al settore giovanile come sia Castello che Spoleto. Naturalmente oggi è un derby e come tutti i derby, il derby è già una storia a parte. Naturalmente c'è la grande esperienza di Spoleto e la giovane età anche dei ragazzi di Città di Castello che stanno soffrendo un po' in questo campionato, naturalmente anche per quanto riguarda la posizione in classifica. Cosa dire, speriamo anche che il Castello abbia possibilità di un ripescaggio, speriamo che abbia la possibilità, onestamente e tecnicamente impossibile salvarsi oggi, però vediamo un po' cosa si può fare. Certo, per l'Umbria perdere una B2 maschile come Città di Castello dispiace, ma speriamo che le cose vadano meglio il prossimo anno. Allora, lei ha misurato con il termometro la B2 Umbra, ma la salute generale del movimento pallavolistico Umbro al di là della Sir Safety com'è? Beh, i problemi economici ci sono, è inutile negarlo, le società soffrono, grande volontariato, sempre più, diciamo, esasperato per quanto riguarda la necessità di un volontariato dove, non essendoci economie, bisogna fare economie, scusate il visticcio di parole. Però vedo che la gente è sempre appassionata di questo sport. Ora, lei ha citato la Sir, vedere 6.000 persone al pala evangelisti significa che l'Umbria è attenta a quelle che sono anche le dinamiche nazionali. Come in tutti gli sport, quando c'è una squadra di vertice che tira e promozione, nello stesso tempo da PIL alle altre società, ai ragazzi, specie nel maschile, che in Italia, non in Umbria, c'è un po' di difficoltà. Quindi ben vengano queste grandi società, ma assolutamente l'attenzione deve essere al settore giovanile. E penso che in Umbria ci sia questa attenzione. È difficile valutare anche in questo momento storico, anche perché cambiamenti ci saranno sicuramente l'anno prossimo. L'anno prossimo si parla di campionati diversificati, ritorna la retrocessione, si parla di un campionato speciale. Adesso non stiamo a dire queste voci di corridoio, che poi alla fine possono avere un valore. Certo, è importante che la pallavolo continui ad avere la base, senza la base non si cresce. Però è importante altresì avere una nazionale che tiri. squadre di vertice come quelle che abbiamo viste in Umbria, sia per quanto riguarda la Sir, che naturalmente finale Scudetto significa tutto, ma anche l'Alto Tevere ha avuto delle fasi belle di gioco, ma nello stesso tempo di risultato. Le somme poi si tirano, io dico nella pallavolo l'anno dopo, perché al di là di come finisce il campionato, i campionati, sia di serie che di categoria, è importante vedere come l'anno prossimo le società avranno modo, avranno voglia, avranno anche i mezzi per poter disputare i campionati. E prima dell'ultima domanda, un passo mio indietro, naturalmente abbiamo preso la Sir Safety come esempio, nel fatto che è arrivato nella finale nazionale meritatamente, poi ci sono le altre realtà che non sono di secondo livello, però in questo momento abbiamo preso lo spunto proprio dalle 6.000 persone e da tutto il seguito che è anche in trasferta il movimento pallavolistico, sicuramente questo. La riforma dei campionati è vero a livello nazionale, a livello regionale c'è qualcosa che bolle in pentola, Presidente? A livello regionale, naturalmente, noi non possiamo che seguire quelli che sono gli indirizzi, le direttive del nazionale, quindi seguono quello che in qualche modo a Roma si decide. A livello di consulta nazionale siamo già pensando a quelli che potranno essere i nuovi campionati, ma più che altro per dare la possibilità alle società di poter garantire delle squadre, al di là di tutto, più che competitive, che abbiano modo di giocare. E questo non è semplice. Nel femminile stiamo avendo delle ottime prove per quanto riguarda Perugia, sperando che la A2 possa diventare un obiettivo importante, sperando anche che poi dalla A2 si ritorni ad avere una società di A1. Ma non lo dico perché l'Umbria possa avvalersi di, chiamiamoli così, questi fiori all'occhiello, perché ritengo davvero che dietro le grandi società ci siano sempre le società più piccole che lavorano, che formano, che danno modo di apprezzare, di essere in qualche modo trainati proprio dal gioco delle grandi società, delle grandi squadre. Naturalmente poi anche voi state facendo la vostra, voi giornalisti, davvero vi devo ringraziare sia per quanto riguarda le TV che per quanto riguarda la carta stampata, dando spazio nuovo, anche per quanto riguarda le reti nazionali, dando spazio nuovo a questi sport che tutto sono forche minori, sia per quanto riguarda la capacità tecnico-atletica, non solo degli atleti, ma nella gestione di una squadra, e sia per quanto riguarda veramente l'amore che la gente poi rivolge nei momenti importanti di queste squadre. Veramente per chiudere, per la sincerità che qualcuno dice la contraddistingue, io naturalmente la conosco poco, ora vedremo poi l'anno prossimo se è vero, a parte gli scherzi, guardando indietro ma guardando il presente con un occhio nel futuro, che cosa probabilmente in Umbria, proprio a livello di movimento, organizzazione e quant'altro, forse poteva essere cambiato per migliorare la situazione, se qualcosa da migliorare c'è, e c'è sempre per fortuna, altrimenti non avremo obiettivi. Ma c'è sempre da migliorare, questo è normale. Io ritengo che probabilmente qualche livello dirigenziale, probabilmente anche quelli federali, non si preoccupano di creare un futuro dirigenziale, di formare un futuro dirigenziale. Io spero di poter avere voce in capitolo in questo senso, sia a livello nazionale, dove faccio parte di alcune commissioni che riguardano la formazione, ma sia a livello regionale, dove creare dirigenti del domani, penso che sia veramente un valore aggiunto che possiamo dare alla pallavolo. In altri sport si sta cercando di creare dirigenti. Io vedo un po' che vi è probabilmente un'età, forse anche a cominciare dalla mia, un po' avanzata, ma non perché non vi sia certamente l'esperienza di chi per tanti anni ha dato a questo sport e continua a dare importante, però non ci vorrebbe un gap a livello proprio di età tra un dirigente e un altro. Ci vorrebbero dei giovani che si appassionano sempre di più. Quindi dove trovare i giovani? Certamente nei ragazzi che terminano di giocare, ma che non terminano mai di amare lo sport. Un altro settore che secondo me va in qualche modo potenziato è il settore arbitrale. Ci stiamo lavorando in collaborazione col Comitato Provinciale di Perugia. Abbiamo formato 60 nuovi arbitri per quanto riguarda i campionati di categoria. Speriamo che crescano. Certo, raggiungere i livelli che si sono raggiunti in questa regione con 10 arbitri di serie A, arbitri di livello nazionale e internazionale non è facile, però è giusto anche investire in questo settore. Ritengo che gli arbitri rappresentano a 360 gradi una disciplina sportiva, specie se l'arbitro da giovani continua ad allenarsi, a seguire, a vedere la palla a volo, a rubare con gli occhi quello che quelli più grandi, più esperti riescono a esprimere nelle competizioni. Mi sembra che di carne e al fuoco ce ne sia. Quindi di cuore, di cuore buon lavoro, Presidente, a lei e a tutti i collaboratori. Perché lei giustamente ha detto che bisogna assolutamente fare affiancamento, non rottamazione, perché altrimenti non ci sarebbe continuità. Non ci sarebbe continuità, non ci sarebbe modo di insegnare e non ci sarebbe nemmeno modo di imparare, perché se c'è un buon insegnante c'è un buon discepolo. Ecco, un buon allievo. Grazie Presidente. Grazie a voi.